Presentato questa mattina nella sede della Regione a Pescara dall'assessore alle politiche sociali Pietro Quaresimali, il progetto, denominato Piazza Bracci, è finanziato dalla Regione e inserito nella rivista Voci di Dentro. L'obiettivo è quello del reinserimento delle persone in stato di disagio. L'iniziativa affronta i problemi legati alla pandemia e post-pandemia. Avviato lo scorso dicembre, si è concretizzato con la formazione per psicologi volontari e con Agora nelle scuole sportelli di ascolto psicologico mobile sino a giugno. L'evento proseguirà sino al mese di settembre. È prevista anche la pubblicazione di un terzo fascicolo. Da gennaio poi sono diffusi sui social i recapiti del team di Piazza Bracci per appuntamenti pubblici aiuti psicologici. È un progetto molto importante che ho voluto fortemente, dando appunto un contributo finanziario. È un progetto che va incontro alle problematiche emerse nel corso della pandemia e soprattutto nel post-pandemia. Questo progetto vuole andare incontro alle persone più fragili per evitare esclusione sociale e lotta alla povertà, ma anche per cercare di tutelare i minori. La particolarità di questo progetto è che è previsto uno sportello di supporto psicologico itinerante. Quindi vogliamo andare nelle piazze, nei giardini per cercare di coinvolgere persone che sono in difficoltà, che spesso sono un po' restie ad andare negli uffici dell'istituzione. Quindi con questo progetto vogliamo andare incontro a queste persone. Tutti questi livelli dello svantaggio, delle difficoltà e del disagio si sono però anche intrecciati in una lettura che ha voluto dare anche una, diciamo, interpretazione polifonica, corale, vista attraverso tante lenti di ingrandimento. E queste lenti di ingrandimento sono stati gli articoli che poi la rivista Voci di Dentro, nell'inserto Piazza Bracci, ha riportato.